Il teatro antico di Taormina è al secondo posto per dimensioni in Sicilia dopo il teatro greco di Siracusa. L'impianto originario risale, come quello di Siracusa, al 300 a.C. A documentarlo sono i resti del muro a blocchi inglobati nell'edificio della scena e le iscrizioni in tre sedili della cavea. Alla stessa epoca risalgono gli avanzi del piccolo edificio sacro, alla sommità della cavea. Infatti la struttura teatrale originaria era legata ad un piccolo santuario di cui resta il basamento sul bel vedere che sovrasta la cavea. Tuttavia in parte si presenta Romano, nel suo aspetto oggi visibile. Risulta scavato nella roccia e la scena ha per sfondo il Marionio e l'Etna. Ha un diametro massimo di circa 109 metri ed un'altezza di circa 20 metri. La cavea è suddivisa in nove settori da otto scale che consentono l'accesso degli spettatori ed è circondata nella parte alta da una doppia galleria di archi sorretti all'esterno da dei semplici pilastri e all'interno da colonne di marmo. Il fondo della scena di epoca romana è parzialmente aperto al centro ed è delimitato da un muro sul cui sfondo sono adagiate alcune colonne residue in marmo che fanno comprendere come dovesse essere in origine. Una prima ricostruzione dell'edificio si ebbe in età repubblicana o primo impero, forse sotto Augusto, ma ad un ampliamento della prima metà del centro dopo Cristo risalgono le forme oggi note. L'edificio raggiunse quindi i 109 metri di diametro massimo con un'orchestra dal diametro di 35 metri per una capienza di circa 10.000 spettatori, oggi ha una capienza agibile di 4.500 posti a sedere. In pieno e tardo impero l'edificio venne adattato ad ospitare le venazioni, ossia spettacoli di lotta tra gladiatori e bestie feroci. L'orchestra venne mutata in arena sostituendo le gradinate inferiori con un corridoio avvolta che connetteva ad un ipogeo al centro dello spiazzo dove le macchine sceniche permettevano gli effetti speciali del combattimento. Infine, in epoca tardo antica, venne realizzato il portico alle spalle della scena. Il suo abbandono probabilmente è da ascriversi all'assedio dei vandali e alla conseguente decadenza dell'impero romano.